Spericolato inseguimento nel centro abitato di Lecce, a finire in manette Mirko Greco di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine. Tutto ha avuto inizio alle 2 della notte, violando il decreto io resto a casa, ha rubato le chiavi di un Audi A4 di proprietà del convivente della madre andando in giro per il paese. Alla vista delle forze dell'ordine che gli intimavano l'Alt ha preferito fuggire dando vita ad un inseguimento. Su di lui gli agenti di polizia e i carabinieri, una corsa durata per diversi chilometri in città causando il danneggiamento di tre vetture intestate ad altrettanti ignari proprietari. Poi finalmente la cattura su disposizione del PM di turno presso la procura della Repubblica di Lecce. Francesca Miglietta Greco è stato tratto in arresto per i reati di furto, danneggiamento aggravato e continuato, resistenza pubblico ufficiale, per lui sono scattati gli arresti domiciliari.